L'Associazione Cittadini per il Centro Storico ha presentato un esposto ad Asla SM Comune per fare chiarezza sull'utilizzo in centro dei diserbanti per pulire le strade. Il tutto parte dalla segnalazione da parte di alcuni cittadini che hanno rilevato che l'SM per pulire i cigli stradali usa un diserbante chimico che potrebbe avere conseguenze sulla salute dei cittadini ma anche degli animali. Chiediamo semplicemente di fare chiarezza sull'utilizzo dei diserbanti chimici nel centro storico. I cittadini residenti nelle zone in cui sono stati usati si sono accorti che l'operatore dell'SM aveva una tuta di sicurezza, un casco di sicurezza e una mascherina però a loro non era stata fatta nessuna segnalazione di questa operazione di pulizia e quindi uscendo senza alcun tipo di precauzione si sono trovati a diretto contatto con l'operatore dell'SM che spruzzava la sostanza chimica. Non si vuole procurare nessun allarme, semplicemente chiedere una verifica da parte dell'SM e quindi del Comune una rassicurazione sul fatto che si tratti di sostanza non pericolosa per la salute delle persone ma anche per gli animali perché dalle prescrizioni ministeriali in ordine all'utilizzo di questa sostanza effettivamente qualche dubbio sulla possibilità di usarla in strade molto strette quali i vicoli del centro sono venute. Si tratta comunque di una sostanza altamente inquinante per le falde acquifere tant'è che nelle prescrizioni ministeriali è previsto il divieto dell'utilizzo all'interno delle città per evitare che poi possa finire la sostanza all'interno della rete fognaria e quindi andare a inquinare le acque.